e a tutti gli effetti un tiro giusto tre siluri devastanti di Kobe Bryant più 13 Lakers il concetto di Norin Hour House mi sembra abbastanza chiaro Kobe vuole pigliare il primo tiro disponibile nei primi 5 secondi dell'azione perché ha chiaramente intuito che è quello il momento in cui ha più facilità di avere un buono sguardo a canestro era il 1994 finale della Eastern Conference i New York Knicks con Rivers in fondo molto in fondo alla panchina contro i Chicago Bulls di Phil Jackson per me la miglior stagione di Phil Jackson da allenatore non c'era Jordan gara 1 più 10 Bulls a metà e vittoria dei New York Knicks l'unica partita prima della gara 4 già più volte citata in cui Jackson si è fumato un vantaggio in doppia cifra al termine del primo tempo ed era 10 non 18 l'unica su 300 e passa partita nel frattempo avete visto PJ Brown al giro prima e Eddie House al giro dopo come classica serie di cambi tra un po' arriva anche Posey di coach Rivers un po' esitante la penetrazione di Odom arriva il fischio è un'infrazione direi passi per l'ex giocatore di Rhode Island sempre più enigmatico dopo la gara precedente 6 su 6 nel primo quarto 7 su 7 nel primo tempo 4 punti e la panchina finale classica nel secondo tempo si può anche rivoltare però quando è uscito lui nel terzo quarto è partito il gran parziale dei Boston Celtics Pierce che finora si è visto pochissimo nonostante sia accoppiato con Radmanovic viene raddoppiato da Gasol perso totalmente PJ Brown che dovrebbe poter appoggiare questo pallone che poi sbagli non cambia niente non si può perdere un uomo sotto la retina unesimo dubbio su che cosa vogliono fare difensivamente Lakers avete visto Kobe che prende il classico tiro nei primi 6 secondi dell'azione li sta mettendo da 3 punti 11 per lui è tornato su Allen mentre Fisher è andato da House l'idea è stacchiamo House dal resto della squadra ma nell'intero quarto quarto né Bujaci né Farmar hanno portato via un solo pallone alla coppia Allen House e guardate Fisher questa volta fa la cosa giusta almeno chiude su PJ Brown poi è sfortunato o meglio il rischio è calcolato la palla arriva nelle mani di House che in questo momento vede una vasca da bagno al posto del canestro e House segna 3 punti invece che 2 però questa è una difesa che ha una sua logica almeno quella precedente o quella che per esempio ha portato alla schiacciata già citata di PJ Brown non ha una logica a cui possa essere ricondotta è paradossale il miglior possesso difensivo dei Lakers ha portato a un tiro da 3 punti di Boston va detto che Eddie in questo momento però diciamo su questa serie un meno di impatto ce l'ha decisamente pur avendo giocato dei playoff fino a questa serie finale diciamo così a corrente alternata bella palla per Brian di Paul Gasol sarà contentissimo Tex Winter per questa situazione la cosiddetta pressure release sfruttare la pressione della difesa o poi forse il piano della partita credo che sia riassunto nei 14 punti che sono la distanza tra le squadre e il fatturato al momento di Kobe Bryant anche questo è un tiro che può anche essere concesso PJ Brown lo ha sbagliato in tutte le maniere nel primo tempo della partita precedente anche se questo è il tiro che in gara 7 contro il Cleveland Cavs ha sostanzialmente dato la vittoria in quella serie ai Boston Celtics Bryant si vede deviare questo pallone 12 secondi per tirare rivedendo tante volte alcuni momenti di gara 4 la sensazione è che questo Pekarolo giochino troppo alto e troppo laterale per una difesa come quella dei Celtics dove il lungo sta fuori anche 2 secondi e ti costringe a palleggiare ancora un paio di secondi palo da parte di Radmanovic sul tiro dall'angolo si lotta a rimbalzo la palla di Allen corre Eddie House vediamo se prende anche questo tiro direi che legge la situazione Garnett in post basso arriva il taglio di House seguito per un attimo da Odom poi lasciato da Odom che si occupa di PJ Brown Bryant scala su House ma non marca neppure House Radmanovic non marca Ray Allen io non riesco a capacitarmi è un lato debole House Allen sono lì per tirare piazzati cosa fai? Di sfidi? Di guardi? Certo che veramente questo ingresso di House cambia comunque la spaziatura dei Celtics e i Lakers non ci capiscono quasi più niente si però non c'è moltissimo da capire bisogna marcarli perché sono dei tiratori finisce lì eh bel ribalzino intanto da parte di Kobe si si è evidente ma è come se non esistesse questo secondo piano che invece in questi tre giorni è stato chiaramente l'argomento principale non può non essere lo Stato guardate come sono strutturati sul perimetro ci sono già due tiri disponibili da tre punti se considerate il portatore che si è venuto che si è venuto per la parte di chi è venuto per la parte di chi Grazie a tutti.